Buongiorno, io sono Daphne Mures dal Perù e io sono molto contenta di sapere che oggi sto dando un voto di aiuto alla signora Murati perché è bravissima. Fai gli auguri. Auguri alla proposta seconda e io penso che come straniero ho visto di lontano e di vicino tutto quello che ha fatto e io sono contenta per lei come donna e come signora che ha fatto eccellentemente per tutte le parti, in le piante, in aiuto alla gente povera, in aiuto al sistema delle persone che non hanno casa e nel sistema di salute e altri. Vorrei parlare di quella signora a cui ha dato casa in poco tempo? Sì, voleva dirle che c'è una, non è una signora, un signore maschio che ha voluto, ha parlato con la signora Moggioli e dopo di che le hanno chiamato a lui in una settimana per la proposta di una casa popolare, Fiesta in Cosa, questo è importante per me. Grazie signora.